Non ci sono più alibi per queste grandissime facce di bronzo, abbiamo depositato la mozione per tagliare le pensioni d'oro, le pensioni d'argento, le pensioni di bronzo, tutte quelle pensioni che superano i 10.000 euro, i 15.000, i 20.000, c'è gente che prende anche più di 50.000 euro, non è giusto perché c'è gente che prende nemmeno 500 euro in Italia, 2 milioni di pensionati, allora abbiamo depositato questa bella mozione targata Movimento 5 Stelle che è una mozione che taglia le pensioni di tutta questa gentaglia e li ridistribuisce proprio ai pensionati minimi, dando loro 518 euro in più, 518 euro in un anno che sono 40 o 50 euro con cui un pensionato che fino a ieri prendeva 495 euro possono servire per fare una spesa in più, pagare le bollette, è un'ulteriore mensilità, è un'ulteriore pensione. Abbiamo fatto questo anche aggirando la Corte Costituzionale che continua a bloccare le mozioni sulle pensioni d'oro e tutto ciò che riguarda le pensioni d'oro perché nella Corte Costituzionale stessa ci sono pensionati d'oro. Allora noi le abbiamo aggirate e abbiamo girato tre vincoli. Il primo vincolo era quello della progressività, bisognava prelevare qualcosina a tutti e così abbiamo fatto. Preleviamo pochi centesimi, un euro alle persone che hanno una pensione bassa fino ad arrivare però a prelevare a gente come Lamberto Dini, Giuliano Amato, 10.000, 13.000, 15.000 euro. Non li abbiamo prelevati tutti, continueranno a vivere con 10.000 o 20.000 euro, comunque devono stare zitti perché hanno 10.000 o 15.000 euro al mese con cui vivere e noi soldi che preleviamo loro gli diamo invece a persone che per vivere hanno solo 500 euro. Poi abbiamo fatto questo provvedimento superando il secondo blocco su tutti, quindi riguarderà e interesserà tutti, sia pubblico che privato. E infine il terzo blocco era quello della temporaneità e quindi la nostra mozione prevede che il prelievo sia fatto per tre anni, vuol dire che in tre anni riusciremo a ricavare quasi 4 miliardi che ridistribuiamo alle pensioni minime. Quindi non c'è più alibi, potranno fare tutte le battaglie che vorranno contro di noi, tutte le lotte, dire tutte le falserie, ma ormai per queste facce di bronzo non c'è più niente da fare.